Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in aula per la prima volta sul banco degli imputati per il processo Coingas. Con lui anche l'assessore Alberto Merelli, il consigliere comunale Roberto Bardelli, l'avvocato Stefano Pasquini, l'avvocato Pierettore Olivetti Rason e il commercialista Marco Cocci. Franco Scortecci e Maracacioli, anche loro presenti, ma loro erano stati anche nelle udienze precedenti. Oltre a loro, per il caso Coingas, sono stati rinviati a giudizio anche il presidente di Estra, Francesco Macri, il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Rogge e l'ex presidente di Multiservizi, Luca Amendola. Per Sergio Staderini, ex presidente di Coingas e Jacopo Bigiarini, le sentenze erano già arrivate con rito abbreviato. Primo testimone della procura, l'ex dirigente della Digos, Claudia Famà. Ad essere ricostruite in aula sono state le consulenze da migliaia di euro e le tracce lasciate dagli spostamenti del denaro. Per ora abbiamo ricostruito la vicenda dei peculati, cioè delle consulenze. Adesso affronteremo la questione dell'Arezzo Multiservizi e via via tutti gli altri capi di imputazione. È emersa una costante. Gli importi si fermavano sempre a 39 mila euro. La soglia, stabilita dalla legge per chiedere altri preventivi, è 40 mila. Tra i file analizzati dalla Digos sono poi spuntati quelli registrati da Staderini nell'agosto del 2016 relativi alla questione Multiservizi. I file audio sono stati ammessi, quindi la fonte di prova sarà non tanto la trascrizione quanto l'ascolto diretto dei file audio.